Si terrà venerdì a partire dalle ore 20 la notte della Luna, evento organizzato in occasione dell'eclissi totale di Luna dall'Osservatorio Astronomico Gloriosi in collaborazione con il comune di Monte Corvino Rovella e la Proloco Rovella. Dalle 20 e 20 sarà possibile ammirare l'eclissi grazie ai telescopi messi a disposizione dall'Osservatorio Astronomico, mentre dalle 23 in piazza Cesen Arts vi sarà la performance Cavern Fire a cura dell'artista Fernando Bassallo. A chiudere il programma delle iniziative la mostra che sarà allestita su Viale dei Cappuccini e che prevede l'esposizione dei lavori realizzati durante il laboratorio ludico didattico a cura della dottoressa Grazia Imparato e dell'artigianato artistico in rame del maestro Maurizio Gallo.